Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi spiegherò il motivo e la motivazione per cui questa settimana non ho fatto video Allora praticamente il fatto è che una settimana fa esattamente ho deciso con un gruppo di miei amici di creare un server minecraft solo per noi youtuber e quindi praticamente sono stato questa settimana impegnato ad arredare il server e quindi essendo impegnato a fare costruzioni eccetera per rendere ancora più figo il server e ho trascurato un po' youtube e volevo dire che questo video oltre che essere una motivazione per me per non aver fatto video è anche un pre trailer cioè un trailer del trailer perchè ancora il trailer del server non è uscito ma uscirà e quindi quando uscirà il trailer del server con esso usciranno anche più approfondimenti e aggiornamenti e quindi per un po' non potrò caricare aggiornamenti sul mio mondo perchè anche non ho potuto toccare nemmeno il mio mondo e vabbè comunque detto questo commentate e iscrivetevi e al prossimo video ciao continuate a seguirmi e bu Grazie a tutti.